Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la seconda sfida o fase di Doctor Doom, che richiede di visitare un trono gigante come Doctor Doom. Il trono gigante si trova qui, non potete sbagliarvi praticamente, vedete? Anche dall'alto si vede tipo una sorta di trono fatto con roccia e alberi, vedete? Qui. Cioè non potete assolutamente sbagliarvi. Anche questa sfida può essere completata in qualsiasi modalità, a patto che abbiate raggiunto il livello 74, quindi sbloccato Doctor Doom e le sue sfide, e completato la prima fase. Quindi dovete utilizzare la skin di Doom, sbloccare le skin di Doom, completare la prima sfida che era quella di atterrare alla statua di Doctor Doom e poi dovete atterrare qui. Vi mostro di nuovo la posizione vicino Corso Commercio su queste montagne, vedete? Non potete sbagliarvi, dovete semplicemente atterrare, nulla di complicato insomma. Quindi atterrate qui, che c'è una sorta di trono fatto di rocce e alberi, e la sfida è completata.